Ciao, oggi ho il grande piacere di presentarti il nuovo libro Tapping Elastico Applicazioni Linfotrenanti un libro scritto e curato da Mattia Giacobone e Sara Montemartini trainer ATS e docenti al corso per la certificazione ufficiale operatore specializzato nelle applicazioni del tapping elastico e professionisti della salute questo libro nasce come risposta alle numerose richieste che in oltre dieci anni abbiamo raccolto da parte di operatori, professionisti a salute e utenti in merito all'azione linfotrenante del tapping elastico in questo libro si spiega con molta chiarezza, in modo esaustivo e molto specifico l'effetto che il tapping elastico può conferire all'organismo se correttamente applicato una delle virtù migliori e maggiori che il tapping elastico ha è che se applicato correttamente produce dei benefici, dei risultati positivi se applicato in maniera scorretta non produce effetti negativi ma non ha alcuna funzione è necessario quindi conoscere i principi di anatomia, fisiologia e biomeccanica per applicare correttamente il tapping elastico all'interno di questo volume come negli altri precedentemente pubblicati della stessa collana potrai scoprire tutte le indicazioni e le controindicazioni che il tapping elastico ha in questo caso tutti i benefici dell'azione drenante del tapping elastico le origini di questa tipologia di applicazione, i meccanismi dei organi a livello linfodrenante il beneficio in ambito linfatico mira quindi a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica ridurre eventuali edemi, facilitare il riassorbimento degli ematomi, vascularizzare eventuali zone fibrotiche rimuovere l'accumulo di liquidi presenti nel tessuto interstiziale, ridurre il dolore muscolare e cutaneo ridurre l'infiammazione e l'affaticamento muscolare rimuovendo gli accumuli di acido lattico e tossine ed aumentare il ROM come potrai scoprire all'interno della pubblicazione nella parte dell'indice si parte come ti ho detto dai vasi, stazioni linfodonali principali al metodo di utilizzo del tapping elastico drenante con l'effetto vacuum le principali problematiche e patologie l'infedemi edemi da insufficienza cardiaca e insufficienza renale le controindicazioni dell'utilizzo del tapping elastico, in questo caso l'infodonante per noi questo è un aspetto fondamentale in ogni corso potrai apprendere quando non deve essere applicato e come non deve essere applicato il tapping elastico controindicazioni assolute e relative e una seconda parte dove si va ad analizzare la parte pratica con le applicazioni partendo dal viso in questo caso a cura di Alberto Falcone, applicazioni dei arti superiori, dorso e torace, addome, glutei, arti inferiori e applicazioni particolari il libro è corredato da una nutrita bibliografia al termine dei primi capitoli che spiegano appunto i sistemi di circolazione della linfa e tutte le varie dinamiche con delle immagini molto chiare e poi le fotografie che illustrano applicazioni corrette e sbagliate del tapping elastico ad effetto linfodrenante come abbiamo detto per tutte le aree corporee quindi un compendio molto utile, essenziale, chiaro, esaustivo rivolto a tutti gli operatori e gli utenti che desiderano avere maggiori informazioni sull'effetto drenante del tapping elastico per avere maggiori informazioni visita il sito tappingelastico.com oppure chiama il numero verde gratuito 800 17 30 25 un professionista sarà a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande io ti saluto, ci vediamo alla prossima, ciao! ciao